La prima cavia Lui è il primo si ma lui è il primo si ma lui è il primo che vedrà tutta la preparazione Mi pare tutto il mestiere C'è una sorella e qualche mia? Dieci Ah è più grande, più grande Si chiama Francesca Ma lei ha fatto il gusto di disegno? Si E c'è anche il suo disegno che è la prima volta Ah si? No, come lo fai vedere questo faccio qua Guardate però cosa che faccio qua eh Questa è la cosa faccio Questa è la cosa faccio No, 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 no Impara l'arte e mettere da parte Dai che è un segreto, poi registri e non vedrai Ah ragione, beh dai, mi distruppo dentro Vi rinunceranno per la siae qua mi sa E per la privacy mi sa Allora, vediamo un po' come ci possiamo organizzare Passo avanti Qua tre fila A regre? Si Qual è? Forse Ecco le cavie di Alice Siete pronti? Eh? Siete pronti? Lo sapete cosa lo aspetta Lo sapete cosa lo aspetta Ormai, ormai Ehm Ma Eh Allora, vai Tieni Ma Marco sta ancora giocando a scatti Che era le 5 No, no, non è ancora quella quale Gioca registri, poi vado un favore Dipende Luca Da Dica Dica Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.